Ragazzi buongiorno, oggi riprendo un concetto espresso su una risposta che ho dato una domanda a Instagram ovvero come gestire gli aumenti di peso da avanzati, quindi da atleti che hanno già espresso gran parte del proprio potenziale muscolare e non possono quindi mettere chissà quanti chili di peso corporeo di massa muscolare in generale un vero avanzato cresce molto lentamente, cresce pochissimo perché è in pieno diminishing returns come tale non farà neanche più vere e proprie fasi di bulk, di massa ovvero fasi in cui mangia in un discreto surplus e mette parecchi chili nel corso magari di 6-8 mesi un avanzato fondamentalmente si trova in uno stato di cosiddetto gain taining ovvero mantenimento perenne con un surplus leggerissimo tale da non far stare in deficit stare in leggerissimo surplus energetico in modo da avere le energie per performare bene, allenarsi bene ma non guadagnare particolare peso corporeo probabilmente metterà qualcosa come 2-3 chili nell'arco di 8-9 mesi di cui poi magari ne perderà 1-2 in 6-7 settimane di cut passando così la stragrande maggioranza del tempo, il leggerissimo surplus mantenendo una BF bassa, la condizione migliore sostenibile che può mantenere divertendosi, allenando, facendo dei micro progressi, stando sempre in surplus ma senza avere grossi cambiamenti a livello di stazza e forza questo ovviamente è un po' avvilente per alcune persone perché comunque c'è il sogno c'è la volontà di proprio dire sempre purtroppo ovviamente non è così perché ognuno ha il proprio potenziale chi piccolo chi grande, dopo un po' di anni fatti veramente bene si esprime la quasi totalità di quel potenziale e non si va più molto oltre, salvo non iniziare a utilizzare farmaci dopanti, è simile. Ciò tra l'altro succede anche utilizzando farmaci dopanti ed è per questo che poi progressivamente per chi vuole andare sempre oltre, si alzano le dosi, si aumentano il numero di prodotti e via dicendo. A questo punto subentra un altro discorso che è quello di conoscere il proprio fisico da un punto di vista metabolico ed estetico, ovvero ci sono persone che si trovano meglio, hanno una migliore resa estetica e fisiologica e stando più pesanti, mantenendo una bf un po' più alta essendo più pieni e altre persone che invece quando iniziano a salire un po' di bf anche se hanno dei piccoli guadagni muscolari peggiorano grandemente la loro resa estetica globale e spesso anche come si sentono. Le cose principali da guardare dal punto di vista morfologico estetico sono la struttura muscoloscheletrica generale, ovvero prendiamo ad esempio una persona tendenzialmente esile, polsi piccoli, caviglie piccole, gabbia toracica piccola, magari muscoli del torso quindi pettorali, dorsali sono disegnati e si hanno delle inserzioni e dei ventri tali che non si sviluppano molto in volume quindi magari non avrà un petto particolarmente sporgente, una schiena molto sporgente, voluminosa, col risultato che se si alza l'abf e magari aumenta il girovita ai fianchi questi soggetti si trovano a peggiorare molto le proporzioni, il v-shape, il rapporto vita spalle, vita torace e quindi hanno una resa estetica decisamente peggiore, renderebbero molto meglio restando abf più basse anche a costo di avere ancora meno volumi muscolari ma maggior definizione e miglior proporzioni, viceversa magari abbiamo soggetti più massicci di loro con un torace ampio, muscoli più voluminosi, polso più grande, avambraccio più grande, caviglia più grande, tibia più grande e via dicendo, magari anche una struttura di anche più massiccia e questi soggetti potrebbero rendere meglio abf un po' più alta perché magari si aumenta il girovita i fianchi ma in proporzione aumenta di più il torace i pettorali dorsali già supportati da una gabbia toracica più ampia e quindi il rapporto, le proporzioni tra il busto e la vita ai fianchi non peggiora particolarmente, il v-shape non peggiora particolarmente e quella bf più alta garantisce un po' più di volumi muscolari che permette un look in generale più massiccio. Queste, come detto, sono cose estremamente soggettive, quindi uno deve imparare a conoscersi e decidere poi che sia da prendere in base anche ai propri gusti. Dal punto di vista fisiologico possiamo fare un discorso simile, soggetti più esili, più leggeri di natura, di genetica potrebbero sentirsi semplicemente più ingolfati, meno qualitativi a livello proprio di salute e qualità della vita, a pesi maggiori dovendo magari mangiare sempre molto, avendo sempre il sistema digerente ingolfato, magari praticano anche altri sport tipo calcetto, basket, palla a volo o tennis, quello che è, è un peso maggiore di svantaggia, non si sentono a proprio agio e quindi per questi motivi mantenere una bf più bassa e mangiare meno potrebbe essere per loro vantaggioso, così come viceversa soggetti che fisiologicamente fanno un'estrema fatica a mantenere bf più basse e si sentono peggio a pesi più bassi potrebbero fare il ragionamento inverso. Ovviamente ci sono quelle persone geneticamente ultra skinny fat con struttura esile e allo stesso tempo set point alto e accumuli adiposi svantaggiosi che fanno molta fatica perché dal punto di vista estetico dovrebbero mantenersi più leggeri con una bf più bassa, dal punto di vista fisiologico, salutare energetico dovrebbero mantenere una bf un po' più bassa e quindi a quel punto devono cercare di trovare l'equilibrio migliore per loro tra bf e resa estetica in cui comunque hanno un buon sweet spot, un buon equilibrio tra queste cose e lo scenario più duro ai miei soggetti del genere ci sono e quindi poi sta a loro la valutazione, sta a loro decidere cosa li gratifica maggiormente. Comunque il concetto chiave è che se nasci gagella non muori leone e viceversa, se nasci tondo non muori quadrato, quindi è necessario capire la propria struttura fisica estetica fisiologica metabolica e lavorare per massimizzare quella più che cercare di diventare qualcun altro, di trasformarsi in un'altra struttura che è difficilissimo e quasi sempre peggiora molto la qualità della vita sul lungo periodo anche se si utilizzano farmaci perché comunque la tua struttura di base con cui nasci non la puoi cambiare totalmente. Voi che ne pensate? Avete fatto questo tipo di ragionamento? Che tipo di struttura avete? Fatelo sapere nei commenti, come sempre sviluppiamo una bella discussione e l'estate scettici.